Cristina D'Avena ha raccontato di alcune questioni legate all'origine della sua carriera e di come ha affrontato l'inizio della sua immensa popolarità. L'artista, ospite del podcast Tintoria, in occasione di una speciale puntata a Luca Comics, ha detto, per tanti anni sono stata soltanto una voce, nessuno sapeva chi fossi ha dichiarato, come riporta Vanity Fair quando sono diventata famosa, è stato bello, ma anche difficile. Per mantenere una certa immagine, mi fecero tagliare i capelli, per anni sono stata costretta anche a nascondere le mie curve. Odiavo quel taglio di capelli, non ero io, nelle mie prime apparizioni ero tristissima. Solo dopo tanti anni ho potuto essere veramente me stessa, senza essere esagerata e volgare, ma potendo permettermi di essere anche un po' sexy. C'è anche spazio per parlare delle sue sigle preferite e non ci sono dubbi. Lì c'è la mia vita. La seconda, che tutti mi chiedono sempre, è occhi di gatto. Sotto il video.